Amici, siamo ancora lontani dalla sede di TCA, siamo ancora a Besenello, però le ore passano e noi siamo ancora qui. Gli amici del gruppo Via La Fuga non mollano mai, anche Luca non molla mai, alza, ma passa via! Con le ruote grosse è una fatica infernale, però diventa buio e perciò non dobbiamo mollare. Ciao amici!